e torna a salire sul cammino più alto del podio in Sardegna un inchino per la Messier Sebastiana Oje con orgoglio possiamo dire che la Sardegna è in grado di organizzare grandi eventi mondiali oggi una vetrina straordinaria, una festa bellissima, un grande spettacolo dobbiamo fare della Sardegna un patrimonio e un teatro per eventi meravigliosi e su questo sicuramente porteremo grande impegno e grandi risposte ai territori una grandissima festa